Il pesista Mattia Castellazzi non finisce di stupire. Dopo il personale siglato sulla pista di chiulio in occasione dei campionati studenteschi di inizio maggio, in cui aveva fatto segnare i 17 metri e 23 centimetri, il giovane Bormino, proprio ora all'epreso con l'esame di maturità, è ritornato settimana scorsa dai campionati italiani con un risultato inaspettato. Un eccellente quarto posto con la misura di 16 metri e 9 centimetri, a soli 6 centimetri dal podio, che poteva essere persino argento, se solo Mattia non avesse fatto due lanci non riuscendo a rimanere in pedana. Soddisfazione che rimane comunque alle stelle per questo ragazzo umile e determinato, velo proprio pioniere di questa disciplina in Bartellina, grazie al sostegno dell'Unione Sportiva Bormiese. Sono passato all'Ecco da quest'anno, però mi allena sempre Giuliano Giacomella, che è il mio allenatore fin dagli esordi, infatti mi ha seguito e siamo cresciuti insieme. E le metri di Mattia non finiscono di certo qui. Spero sempre di migliorare, soprattutto per una sfida con me stesso, perché il mio sport è bello per quello, perché siamo da soli in pedane, non c'è nessuno che ci può aiutare o far perdere. È tutto nelle nostre mani e dobbiamo fare quello che possiamo.